Il luogo, ripeto, per una questione di emergenza, c'è un altro luogo che avevamo identificato sul territorio del Comune d'Imperia, in un luogo più decentrato, perché mi rendo perfettamente conto che questa location, diciamo, in mezzo alla città, vicino agli impianti sportivi, non sia al massimo della vita, però, ripeto, in emergenza si fanno le cose in emergenza. L'altra location individuata necessita di lavori di ristrutturazione, per cui ci vorrà, credo, due o tre mesi perché vengano effettuati, dopodiché non è la caserma Crespi, in questo momento preferirei non dire qual è, quando sarà ora si saprà, non è nel centro d'Imperia, quindi credo che, voglio dire, anche il discorso di vicinanza agli impianti sportivi e quant'altro venga a cessare e credo come discorso.